Ehi la, sto in direzione New York City, l'accento americano. Adesso sto dentro, fissati i gate, mi vedo un po' di negozi, questo è l'inizio della nostra giornata. Mi sono svegliata alle 10, adesso sono le 12, ma tutto facilissimo, io pensavo chissà che cosa, beh che sono un po' imbrenato io, però tutto per ora, tutto bene. Comunque, stavo pensando un attimo adesso alla Serie A, speriamo che il Milan vinca lo scudetto. Allora, stiamo a 74, boh, non lo so, speriamo bene, ora vado a cercare un bacchiccio fame, parecchia fame. Va bene, ci sentiamo, anzi ci vediamo dopo nell'altro spezzone. Il bello è che la gente dice ma che fa sto scemo qua? Ci vediamo nell'altro spezzone di video. Per rifocillarmi due pezzi, no, pezzetti di pizza ortolana per tenermi leggero. Ecco il mio aereo, vedete, e io volo con Ita, però è Alitalia alla fine, diciamo, i colori sono ancora quelli dell'Alitalia. Io non ho mai visto un aeroporto in vita mia, questa è la prima esperienza diretta a New York. Vapio bello, veramente, adesso è una bella giornata, speriamo che vada tutto bene e basta. E guardate quanto è bello il mare. Non lo so, mi aveva sempre sensazioni positive, io sto proprio su un motore, l'ala... Come vedete è vuoto l'aereo. Proprio vuoto. Bello, bello. Un decollo è stato pure, diciamo, facilmente superabile. Buongiorno, questo è il primo giorno a New York. Vi dico che per me tanto è un primo giorno da ieri perché non ho dormito, non sono riuscito, forse è l'emozione, proprio non sono riuscito a dormire. E devo dire che ieri stessi sono andato a mangiare, c'erano delle polpette col pomodoro, parmigiano, una cosa pesantissima, vabbè. Insomma, non sono più abituata, stiamo ora vada in supermercato, vedo un po' come sono le cose, dicevo che c'è la frutta gigante, già ci sono i gocomeri. E niente, questa è la stanza, una bella casetta. Certo, non siamo a Manhattan, però, diciamo, questo è il massimo per me. Una cosa, una cosa, io sti video che sto facendo, le farò molti, ma non li rivedo tutti, quindi ci sarà qualche errore, ma siamo per di noi, che ci importa. Va bene? Eh, ora vado a fare la doccia, devo andare al bagno, e tanto calcolate che qui sono le 6 di mattina, da voi in Italia, sono le 12, vabbè, io spero stupido vada in giro per il mondo, quindi chissà quando lo vedrete. Vabbè, buona giornata.